Snello, bello e suoni che è una bellezza! Che cos'è? Un incredibile corso che in sole otto lezioni ti permetterà di imparare un sacco di cose interessanti ad un prezzo molto vantaggioso. In più farai parte di un gruppo di persone che vogliono imparare come te a suonare bene. Hai comprato un sax da poco oppure già suonicchi, ma sei fermo ad un punto morto con un brutto suono? Questo è il corso che fa per te. Bello, snello e pensato per darti in sole otto lezioni tante competenze che ti saranno utili. Avere una buona impostazione, produrre un bel suono intonato, imparare a leggere la musica, suonare da subito esercizi carini e musicali scritti apposta per te, imparare a gestire la sessione di studio anche quando il corso sarà finito. Inoltre prendere una canzone che ti piace e imparare a studiarla. Avere una professionista, io, che ti segue passo passo con delle lezioni professionali. E non si tratta di video pre-registrati, ci sono proprio io che ti parlo in tempo reale. Questo corso è adatto a chi non ha mai suonato oppure a chi ha iniziato da pochissimo ed è autodidatta e vuole farsi un regalo che gli rimarrà per sempre. Partono i corsi di Music is Forever Body? Un nuovo modo di imparare a suonare bene divertendoti e con risultati certi. Scrivimi a infochiocciolaemanuelavitali.com e riceverai tutte le info che ti occorrono. Il corso è a numero chiuso e con un numero massimo di partecipanti per garantire la massima qualità possibile. Sali a bordo con noi e da qui in poi saranno solo successi e ti diverti pure!